Abbiamo un solo minuto per illustrarvi la Fiat 600D Multipla e poco ma tenteremo. Il motore posteriore, 767 cm3, 32 cavalli, 105 km all'ora, in una parola è formidabile. La linea, sobria e irrazionale, è stata studiata per utilizzare al massimo lo spazio disponibile. Quattro ampie porte facilitano l'accesso all'abitacolo. Lo so, non mi restano che pochi secondi. Dunque l'abitacolo pare ideato da un trasformista, due, quattro, sei comodi posti. Oppure, con i sedili posteriori ribaltati, spazio per 400 kg di merci. Non ho finito, se siete solo in quattro o cinque, eccovi l'altra versione. La stessa linea, ma con due sedili unici. E spazio per tutto il bagaglio che volete. Ribaltando i sedili, eccovi una soffice cuccetta. Ancora un attimo. Con il sedile posteriore abbassato, eccovi uno spazio gigante. Otto secondi per mostrarvi la Multipla su strada. Un giro alla chiavetta e via. Veloce e sicura su qualsiasi strada.